AGO 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 Dove sei AGO? Ecco ti qua, caro Aghetto impertinente Credevi di nasconderti in questa bolla di piedi, non è così? Oh no, porca miseria Ah, non è possibile! Ho perso di nuovo il mio magro Oh, ma te... per tutti i baffi di mia nonna L'accordo! Chiunque ci sia lì dentro farà meglio venire fuori con le mani in alto Ma che... ma che... ma che... Ma che... Cosa? Che hai detto? Che pianeta è questo! Il pianeta Terra! E voi, alieni, restate indietro se non volete che vi colpisca con questo! Ehi, quello è mio! Ora non più! Lo sa? È bello avere un fotografo professionista in casa nostra! Vogliamo ricreare una foto di famiglia scattata undici anni fa E lei deve ricrearla! Ok, famiglia, vai con la foto! Sì, che bello! E va bene, basta che ci sbrighiamo! Ehi, possiamo metterci un pochino più di entusiasmo? No! A causa tua sto facendo tardi alla festa di Gianna Tetrazzini! Ma tu odi Gianna Tetrazzini? Qualche volta, ok? A volte mi piace, altre volte la odio E altre volte mi fa letteralmente schifo! Fatichi tanto a capire certi rapporti! Sì, è così! Va bene, Henry! Prepariamoci! Via la vestaglia! Ah, bene! Ok, ok, avete finito di ridere! E ti starai chiedendo perché Joy è coperto di peli e parla strano! Paghetto! Ago! Ma dove sei, Ago? E perché ho la pelle di Ola? E perché la mia gamba destra sembra il tronco di un albero! Io voglio soltanto trovare il mio Ago! Perché per colpa di voi alieni l'ho perso di nuovo! Grazie di avercelo chiesto! Se abbiamo questo aspetto è perché siamo andati nello spazio e il raggio è passato attraverso la tempesta radioattiva! Shhh! Ok, è tutto ok, Joy! Siamo vivi, anche da mutanti! E visto che Capitan Man e Kid Danger non ci hanno salvati quando eravamo persi nello spazio adesso è il momento della vendetta del pallice! Sarà il nostro obiettivo adesso consumare la vendetta contro Capitan Man e Kid Danger! Vendetta! Ehi, metti giù il mio tubo! Ho dimenticato di dirti che la tempesta radioattiva su nello spazio ha trasformato il mio braccio destro in un'arma tremenda! Visto? Oh, scusa, Joy! E adesso riprenditi il tuo tubo! Vendetta! 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 Ho trovato il mio ago! Ok, tutti davanti alla macchina fotografica è proprio lì sopra il treppiedi Papà, lo sappiamo dov'è la macchina? Bene! E allora che aspettate? Fatelo! Con calma! Ah, Henry, ti togli quell'orologio? Ehm... Sì! Ehi, dove vai? A togliermi l'orologio! Ma... Che c'è? Non posso togliermi l'orologio nel portico, papà! Avete sentito? Non posso togliermi un... Ah... 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 Ah...